Provincia di Cosenza, Comuni e Forze dell'Ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, in prima fila per prepararsi all'estate 2015 e garantire il mare pulito. Molte azioni sono state già avviate, come le ispezioni preventive nei depuratori del territorio, che prevedono eventuali interventi per sistemare ed evitare possibili disfunzioni. Nel frattempo, la Procura, da una parte, ha invitato gli enti a dotarsi di vasche di accumulo per fronteggiare improvvisi fenomeni piovosi, dall'altra ha espresso apprezzamento verso quei comuni che hanno provveduto per tempo a migliorare la rete fognaria con nuovi allacci e interventi per la separazione delle acque piovane. Il Procuratore Capo, Bruno Giordano, ha voluto inoltre una indagine ambientale sullo stato di salute del Tirreno. Il Presidente della Provincia di Cosenza, Mario Chiuto, ha inteso istituire dei tavoli tecnici con i comuni che proseguiranno fino alla metà del mese di maggio e serviranno a stilare una mappatura del sistema di depurazione dell'aria e a capire dove sarà necessario procedere con interventi straordinari.